Andiamo avanti con il telegiornale, il cantiere della metropolitana di via Toledo a Napoli ha aperto le porte per mostrare, per far constatare a che punto sono i lavori, se per noi l'ha seguito Nello Mazzone. Due giorni fa la talpa sotterranea ha demolito l'ultimo diaframma della galleria di collegamento sotterranea tra via Toledo e via Montioliveto della nuova stazione Toledo della metropolitana di Napoli sulla tratta Dante Garibaldi della linea 1. E la stazione, progettata dall'architetto portoghese Tuscheco, stata circa 70 milioni di euro, sta prendendo forma in vista dell'inaugurazione prevista per i primi mesi del 2012. Un'opera realizzata dal consorzio Astal di Spamoccia che scende fino a 40 metri nel ventre di Napoli sotto il livello della falda acquifera. I lavori infatti hanno dovuto tenere in debito conto anche le difficoltà create dal forte dislivello tra i quartieri spagnoli e via Diaz, oltre alle condizioni in cui si trovano le fondamenta dei palazzi circostanti. Questa sarà sicuramente una stazione importante. In più questa stazione c'è questa connessione con i quartieri che è una connessione molto importante sul piano sociale. Un intervento da circa 70 milioni di euro, difficoltà anche per la presenza della falda acquifera e soprattutto anche la scelta cromatica proprio per la presenza della falda acquifera. No, naturalmente questa stazione ha avuto problemi di tutti i tipi. È veramente innanzitutto una grossa opera di ingegneria perché è stata costruita avendo perennemente la pressione di 3-4 atmosfere in ogni punto. Un importante intervento alla stazione Toledo. Quali sono i tempi per quanto riguarda l'apertore della stazione? I tempi dovrebbero essere tra il 2011 e il 2012.